Ritorno nuovamente sul caso Euribor all'esito della recentissima sentenza della Cassazione del 3 maggio scorso. Ebbene la Cassazione ha sciolto la riserva perché sapevamo che la Procura Generale aveva proposto la questione alle sezioni unite della Cassazione e in realtà la Cassazione si è espressa direttamente con una sentenza riconoscendo che non è necessario ricorre alle sezioni unite e ribadendo in sostanza che già c'è un precedente giurisprudenziale nella sentenza del 2021 41.994 che si è espressa in materia di chiede e uscioni proprio con riferimento a delle sanzioni derivanti, quindi delle norme diciamo dettate a livello europeo dalle autoriti antitrust europee. Ebbene è di grande interesse perché moltissimi di voi ci stanno contattando proprio per l'analisi dei propri mutui all'esito del mio recente video proprio sul tasso Euribor e sulla manipolazione del tasso Euribor. Come già vi avevo espresso nel mio precedente video a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia europea risalente ancora a 10 anni fa, più di 10 anni fa, 2013, era stata rilevata la manipolazione del tasso Euribor di quattro importantissime banche a livello europeo. Questa manipolazione si è riverberata per alcuni anni, dal 2005 al 2008 e tutti i tassi che naturalmente sono stati applicati sono stati dichiarati da questa sentenza e in conseguenza manipolati. All'esito di questa sentenza la Cassazione italiana dopo varie discussioni giurisprudenziali a dicembre si era espressa come una sentenza nel 2023 appunto riconoscendo valenza probatoria, quindi riconoscendo la nullità anche di tutte le banche, non solo quelle attratte nel cartello e quindi sanzionate pesantemente, siamo arrivati ad un miliardo pensate di sanzioni, dicendo che qualunque contratto stipulato, qualunque banca era soggetto alla nullità della clausola Euribor e quindi doveva essere appunto ricalcolato secondo le normative applicabili. I tassi applicabili possono essere o il tasso in termini illegali o il tasso sostitutivo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico bancario, comunque sicuramente apriva la strada alle cause per il risarcimento del danno. Siamo stati sospesi all'esito appunto di questa questione e di questa richiesta istanza di rinvio diciamo alle sezioni unite, la Cassazione dice nessun rinvio a nessuna sezione unite però io dico la mia. Sostanzialmente in questa sentenza del 3 maggio non esclude assolutamente il risarcimento però dice bisogna fare naturalmente un distingo tra quelle che sono le banche coinvolte in questa sostanziale diciamo in questo cartello e quindi in quel caso bisognerà anche affinché possa ritenersi in contratto illecito in base a questo accordo esistente a monte occorre che uno dei contraenti sia conoscenza dell'esistenza dell'intesa e quindi naturalmente è più facile provarlo nel caso in cui la banca sia una delle quattro banche o rientri nell'ambito delle controllate delle quattro banche che sono state coinvolte dalle sanzioni. Però dice in ogni caso comunque anche coloro che hanno stipulato dei mutui con banche diverse possono agire giudizialmente però hanno un obbligo di provare più concretamente quindi bisogna provare assolutamente che ci sia stata l'intesa tra le banche e effettivamente che questa intesa abbia creato una manipolazione del tasso Euribor. In particolare dice la Cassazione in questo caso facciamo richiamo ai principi generali dell'ordinamento e noi sappiamo bene che sulla nullità delle clausole che in questo caso appunto diventa una nullità parziale per quanto riguarda le banche diverse si fa riferimento all'articolo 1346 1418 del codice civile come naturalmente abbiamo sempre detto quindi a fronte di questo dice la Cassazione si può configurare appunto una nullità parziale se e valutando caso per caso naturalmente si ricorrono tutte le prove e innanzitutto se le pratiche non siano rimaste a livello diciamo di mero tentativo bisognerà dire che effettivamente c'è stata una manipolazione del tasso e su questo si può naturalmente farlo tramite la perizia se e per quale tempo in quale misura tale alterazione abbia inciso e quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale naturalmente quindi sarà più importante in fase istruttoria comprovare questi passaggi ci stiamo chiedendo naturalmente come fare a provare la consapevolezza del cartello e in capo alle banche ma è ovvio che per naturalmente scambi interni le banche tutte le banche sapevano di questa di questa diciamo manipolazione di questo cartello sarà necessario verificare le pubblicazioni che ci sono state naturalmente le comunicazioni anche interne delle banche però detto questo non ci fermiamo andiamo avanti soprattutto perché è importantissimo avere una perizia di stima cosa ovviamente stiamo facendo anche per tutti i nostri clienti che si stanno contattando in questi giorni che vada a verificare e in quale misura c'è stata la manipolazione del tasso quindi naturalmente ripeto i mutui interessati sono quelli che hanno avuto decorrenza quindi già dal 2005 al 2008 e soprattutto è importante che non si sia già verificata la prescrizione che decorre da dieci anni dall'ultimo pagamento dell'ultima rata quindi se ci sono questi importanti presupposti vale la pena sicuramente fare una verifica sulla manipolazione del tasso e valutare se ci sono i requisiti per procedere giudizialmente o comunque per procedere a una richiesta di risarcimento del danno a presto